buongiorno ragazzi benvenuti a questa lettura per il segno della vergine carte che iniziano a scappare questa è una lettura valida sia per le coppie che per i single per il mese di febbraio quindi se non risuona per tutti potete guardare le letture del vostro segno ascendente o in alternativa del vostro segno di luna se volete invece una sessione privata con me o un pacchetto che comprenda una sessione di life coaching o di analisi karmica per andare appunto ad analizzare a vedere le vostre vite precedenti potete inviare una email alla mia assistente a voci dagliangeli chiocciolagmail.com o in alternativa andare sul sito internet e prenotare da soli questa è la carta che vuole star qui quindi se invece volete diventare miei studenti inviate un messaggio whatsapp al 338 8191267 ma cominciamo vergine energia da due di denari quindi un po di qua un po di là un po dentro un po fuori un po su un po giù cosa sta accadendo questo mese non vedo l'ora di leggerlo nei vostri commenti il due di denari è un qualcosa che è un qualcosa che va avanti ma in bilico come se fosse sul filo del rasoio e quindi si rischia di cadere o a destra o a sinistra appena si perde l'equilibrio appena si perde il centro quindi parla un po questa energia di qualcosa che non ha non ha stabilità una situazione che non si sa ancora da che parte andrà a parare situazioni un po incerte col due di denari perché perché in realtà il due di denari è anche la carta del giocoliere cioè di colui che sorridendo fa ridere gli altri intrattiene gli altri e inoltre il giocoliere è anche colui che mostra e manifesta la sua capacità di tenere un po tutto in piedi sempre con questo sorriso in faccia quindi se dobbiamo proiettare questa energia nell'ambito di una relazione o comunque di un qualcosa che potrebbe diventarlo qui stiamo proprio parlando di un qualcosa che va avanti che prosegue fra un fra una situazione e l'altra e che però non sta trovando un equilibrio non sta trovando una stabilità è come se stessimo giocando appunto un po dentro un po fuori un po ti remolla ma è un gioco che viene però fatto con il sorriso quindi si cerca di farlo con il buon umore magari a volte un sorriso un po forzato altre volte invece si tratta semplicemente di leggerezza probabilmente per molti di noi sarà leggerezza e sarà una sorta di superficialità non in senso negativo ma nel senso che se noi ci immedesimiamo troppo nell'aspetto più emotivo delle cose quello che rischiamo di fare è di perdere la lucidità e quindi perdere la capacità di prendere decisioni ponderate razionali invece quando noi facciamo un po come il due di denari siamo comunque più o meno lucidi perché ci distacchiamo dalle emozioni non ci facciamo coinvolgere troppo rimaniamo sempre un po la carta del due di del due di denari ricorda a livello energetico fra le carte degli arcani maggiori ecco faccio un po una piccola digressione per i miei studenti su qualcosa che non ho spiegato nei videocorsi che però può essere molto importante molto utile il due di denari assomiglia un po come energia a quella del matto per certi aspetti è simile per altri aspetti è esattamente opposta perché perché il matto è colui che si lancia senza sapere dove va accettando l'imprevisto con il sorriso sulle labbra e l'incoscienza del giovane il due di denari invece è colui che tiene in piedi tutto con il sorriso con la superficialità del giovane e l'incoscienza del giovane ma non si lancia anzi fa l'esatto opposto quindi da un lato questa carta ha quelle caratteristiche di giovinezza spensieratezza e leggerezza tipiche del matto dall'altro lato invece l'esatto opposto e cioè non si lancia ma semmai tiene in piedi le cose tiene in piedi ciò che già c'è e lo fa con la leggerezza del matto quindi tiro le palle le tengo su se cadono chi se ne frega se rimangono su bene tanto io rido e sorrido perché la vita è bella ecco un po qual è l'energia del due di denari e applicata appunto alla coppia quello che possiamo dire è che qui abbiamo due persone che stanno vivendo ciò che c'è vivere ciò che arriva senza preoccuparsi troppo del futuro del passato senza dover necessariamente fare i voli pindarici con la fantasia andare troppo avanti nel tempo immaginando chissà cosa in questo futuro o magari preoccupandosi troppo del presente no anche il presente viene vissuto in un modo leggero in un modo giocoso non c'è pesantezza c'è leggerezza quindi è un'energia che se usata bene può sicuramente essere molto utile anche perché se si affrontano per esempio i momenti difficili con questa energia a qualcuno potremmo dare la sensazione di essere superficiali a qualcun altro invece potremmo dare la sensazione di essere strategici perché strategici perché può sembrare una strategia prendere tutto con leggerezza per superare le difficoltà in modo migliore più semplice ma in realtà non lo è potrebbe esserlo sì per me che lavoro con la programmazione neurolinguistica certo tutto può diventare una strategia da utilizzare per riprogrammare la mente nel vivere le situazioni in modo diverso questo è chiaro ma in questo caso non è una strategia è proprio un qualcosa che viene naturale e che ha comunque un effetto strategico quindi ottimo va benissimo teniamoci quindi con leggerezza per questo mese cerchiamo di non appesantirci e di non dare troppa importanza a cose che non sono il nostro potere che non è nelle nostre mani risolvere ecco quindi vediamo un po quello che arriva e giochiamoci questo è il senso ma vediamo un po che cosa accade per chi è in coppia e per chi è single chi si sente intanto ci sono due colonne quindi uno dei due sarà da un lato e l'altro sarà dall'altro lato vedremo adesso dove questa persona che sta qui si sente come un 5 di spade ciò che prova per il partner o per l'altra persona con cui sta flertando che sta frequentando che gli interessa è il 6 di bastoni desidera il fante di denari agisce come la temperanza e ciò che non dice il 4 di bastoni dall'altro lato abbiamo una persona che si comporta da 4 di spade che desidera il fante di che prova il fante di bastoni desidera il 10 di bastoni agisce come un 7 di spade e non dice il papa partiamo da chi è in coppia perché per chi è in coppia questo è un momento nel quale secondo me le liti vengono evitate proprio da questa dopo questa energia da due di spade e meno male che esistono i due di spade in questi casi un'altra cosa che sto notando e che invito i miei studenti soprattutto di secondo livello a notare è che noi abbiamo come si sentono queste due persone questa come un 5 di spade e questa come un 4 di spade notate che 4 e 5 sono due numeri entrambi di spade ma sequenziali quindi prima viene il 4 e poi viene il 5 quindi queste due persone si trovano in due fasi successive della stessa linea della stessa storia di eventi quindi ecco che questo è un po più avanti e questo è un po più indietro nella storia degli eventi ma comunque stanno vivendo lo stesso flusso ora per chi è in coppia dicevo mese sicuramente nel quale la leggerezza aiuterà un po tutti e più riusciamo ad essere leggeri e meno pesanti proprio l'uno con l'altro addirittura con se stessi più questo mese andrà avanti liscio come l'olio in realtà c'è uno dei due in particolare che sembra volere manifestare il suo aver ragione cioè c'è uno dei due chi sta da questo lato che vuole che la relazione vada in una determinata direzione pensa di sapere cosa è meglio per la relazione ma per soprattutto per se stesso e quindi ecco che ciò che prova e ciò che desidera è proprio questo andare avanti in un modo però sicuro in un modo che secondo questa persona è sicuro e funziona sembra anche molto convinta di avere la la formula giusta questa persona tra l'altro desidera anche fare le cose con calma non vuole lanciarsi in chissà che tipo di rapporto complesso e complicato ma davvero desidera fare le cose con calma e desidera un passettino in più desidera semplicemente un passettino in più da parte dell'altro ha tutta la pazienza del mondo e il suo segreto è che comunque vada sarà un successo cioè questa è una persona che in ogni caso riflette su se stessa sulla coppia sulla relazione sul mondo e dice ma a me qualunque cosa accada realmente a me va bene perché io sto bene con me perché io so io so di cosa ho bisogno io mi basto e quindi sia che le cose vadano come voglio io sia che le cose non vadano come voglio io a me va bene uguale è un atteggiamento molto maturo non pretende troppo questa persona vuole un fante di denari quindi si accontenta comunque anche di poco anche di un piccolo sforzo da parte dell'altro e da tutta la pazienza per aspettarlo come vi dicevo con questa carta della temperanza dall'altro lato invece abbiamo una persona che sembra prendere tutto con molta calma perché non sa cosa fare non sa cosa fare non sa come agire quindi sembra che per non sbagliare non faccia nulla però allo stesso tempo si preoccupa di questo non sapere cosa fare lo vive un po come un un ostacolo come un difetto invece vorrebbe forse sapere cosa fare anche a costo di appesantirsi la vita si comporta come un sette di spade ma c'è che non dice il papa c'è un c'è un'energia di evitamento fortissima da parte di questa persona c'è un'energia di evitamento o per evitare appunto discussioni e conversazioni dato che l'altro è talmente tanto sicuro di sé che sa cosa vuole fare sa dove vuole arrivare sa come deve andare la coppia e quindi ecco che questo qui dice vabbè fai un po tu ok ma in alternativa questa sorta di evitamento è un po come un non esporsi perché non ho gli strumenti per espormi non so davvero cosa questa persona ragiona così direbbe così se potessimo leggere nella sua mente mentre sta pensando io non so cosa fare non so come affrontare questa situazione vorrei poter fare di più vorrei sapere addirittura cosa fare o averne gli strumenti ma dato che non è non l'io preferisco evitare anche di affrontare certi discorsi preferisco non espormi in un certo modo ma proprio perché non non posso non perché non voglio anzi io preferirei addirittura caricarmi di pesi di altri pesi io preferirei appesantirmi preferirei vivere magari questa relazione questa situazione in un modo più duro ma avendo in mano degli strumenti per sapere cosa fare abbiamo letto nella mente di questa persona dall'altro lato invece leggiamo proviamo a leggere nella mente di quest'altra persona e vediamo un po letteralmente che cosa direbbe direbbe secondo me io so cosa è meglio e so come ottenerlo ho la pazienza di attendere di aspettare mi va bene anche poco mi va bene anche avere poco da parte tua mi va bene vedere un piccolo gesto e ma ma io sono davvero talmente tanto sicuro o sicura di me che comunque sto bene e so qual è il mio posto nel mondo nella relazione in tutto questo io ho la sensazione che questa nella posizione dei segreti di entrambi sia una relazione molto ma molto solida una di quelle relazioni che comunque possono affrontare delle difficoltà e il fatto che queste due carte che parlano di stabilità si trovino nella posizione dei segreti mi fa pensare mi fa capire mi lascia diciamo intendere che non è nemmeno necessario parlarne cioè una cosa scontata è una cosa che si sa io sono qui per te tu sei lì per me anche se non ci siamo fisicamente ci siamo comunque quindi è una cosa talmente tanto di base che non viene nemmeno messa in dubbio non se ne discute quindi che cosa posso consigliare alle coppie in base a ciò che ho visto il mio consiglio è di canalizzare bene l'energia del due di denari perché se davvero si riesce a vedere scusate a prendere con tanta leggerezza come un giocoliere una condizione nella quale uno dei due non sa realmente cosa fare si sente forse anche un po impotente l'altro sa esattamente cosa fare ma ovviamente deve aspettare comunque le tempistiche dell'altro cioè non può far da solo non può partire in quarta da solo e deve aver pazienza ma io in questo caso dico il due di denari è perfetta come energia perché ci permette davvero di tenere in piedi un po tutto di tenere un po in piedi la situazione in generale ciò che accade di osservare ciò che accade con leggerezza con distacco senza appunto farsi coinvolgere troppo dalle emozioni e quindi evitando anche delle belle liti che già è tanta roba quindi usate bene questa energia da giocoliere vi farà comodo a entrambi e anche perché scherzare sopra ai propri problemi alle proprie difficoltà è importantissimo sia con noi stessi sia in coppia denota davvero la capacità di affrontare le situazioni in modo saggio saggio proprio la capacità di prendere tutto con leggerezza voi avete mai visto un guru depresso o arrabbiato difficile perché il guru capisce che l'universo esteriore corrisponde al suo universo interiore quindi che si incazza a fare col fuori semmai si aggiusta dentro la stessa cosa è quella che c'è lo stesso lavoro dovremo farlo noi se stiamo percorrendo ovviamente dei percorsi di crescita personale o spirituale no non mi riferisco a tutti voi magari fra di voi c'è gente che non ha nessun interesse intraprendere un percorso di crescita spirituale o personale e tutto ciò che vuole in questo momento è avere dalle carte delle risposte anche questo va benissimo dipende dalla semplicemente dipende dal momento in cui la nostra dal momento evolutivo che la nostra anima sta attraversando dalle sfide che la nostra anima sta attraversando ed ecco come ad esempio io stessa in certi momenti metto proprio da parte l'aspetto spirituale della mia vita per focalizzarmi sul materiale io magari lo faccio più consciamente più consapevolmente qualcun altro può farlo punto e basta e va benissimo quindi io penso che appunto questa sia un'energia comunque molto utile in questi casi ma passiamo a chi invece è single e vediamo un po che cosa accade perché single io non vedo il formarsi di nuove coppie questo mese non per la vergine ma semmai vedo un giocare un giocherellare fra energie fra due persone che non hanno comunque le idee chiare e che non sanno esattamente che cosa vogliono l'una dall'altra o meglio o meglio una sa cosa vorrebbe dall'altra e l'altra non sa che cosa vuole o meglio o meglio altra opzione una sa benissimo che cosa vuole l'altra non glielo può dare perché già impegnato voilà e adesso andiamo ad analizzarle bene partiamo prima da una cosa un po più generale diciamo vediamo le energie che vengono per tutti i single per tutti i single stiamo giocando stiamo stiamo tenendo duro no duro no però stiamo cercando di comprendere quale direzione prendere in una certa situazione e il gioco sembra l'unico modo o comunque il modo migliore per affrontare l'altra persona o la situazione in cui quest'altra persona ci ha messi perché anche qui immedesimarci troppo nelle emozioni e farci coinvolgere troppo da queste sarebbe dannoso invece il due di denari è l'energia di chi riesce a giocare su tutto ritere scherzare su tutto prendere le cose alla leggera senza dare troppe importanze appesantire troppo il tutto ottimo vedremo adesso perché uno dei due è molto ma molto sicuro di se stesso e di ciò che vuole uno dei due crede di avere trovato la persona giusta e mi riferisco a chi sta da questo lato potrebbero essere molte vergini in questa situazione o qualcuna di voi qualcuno di voi potrebbe ritrovarsi dall'altro lato ma in linea di massima credo che le vergini siano qui e quindi ecco che questa persona è strasicura di ciò che desidera ed è strasicura di aver incontrato la persona giusta con cui davvero potrebbe costruire un qualcosa potrebbe creare potrebbe mandare avanti una relazione anche interessante anche impegnativa anche un qualcosa che non si sa se durerà o meno nel tempo questo è vero però è un qualcosa che vale la pena vivere è un qualcosa che sicuramente va vissuta e c'è proprio un'impronta karmica qui sia perché abbiamo la carta della temperanza che dà proprio questa impronta karmica al gioco sia perché il 6 di bastoni è quella certezza matematica emotiva che noi abbiamo dentro noi stessi quando il karma ci fa scattare quell'attrazione di tipo magnetico per qualcuno ricordate nel corso di psicologia karmica ed energetica spiego come cos'è l'attrazione e in che modo l'attrazione fra anime gemelle anime compagne fiamme gemelle si manifesta l'attrazione fisica quando si incontrano due anime che hanno un contratto karmico è in realtà lo strumento che l'universo ha per farci stare insieme fino a quando non abbiamo sciolto il nostro karma per stare insieme io non intendo necessariamente avere una relazione vivere insieme significa interagire cioè se io passa un tizio fighissimo io lo guardo mi innamoro e non capisco più niente c'è il karma di mezzo a questo punto questa attrazione talmente tanto forte e magnetica verso questo tizio che nemmeno conosco mi spinge ad andare verso di lui anche se sono timida magari anche se anche se avevo detto addio agli uomini anche se non ne volevo sapere più mi porta verso di lui questa persona inizierà a crearmi tutti quei problemi che per contratto karmico mi deve creare poverino non è colpa sua e lo deve fare nemmeno lui starà bene in questa storia anche lui avrà la sua parte di sofferenza però il karma vuole che noi non ci riusciamo a sganciare cosa prova per me mi cercherà impara a leggere la sua mente con il metodo maya iscriviti ai nostri corsi e visita il sito internet www.vocidagliangeli.com quindi l'attrazione questa attrazione da sei di bastoni è un po un'attrazione magnetica che che ci porta a pensare come va va io la devo vivere non riesco a non viverla non riesco a non provare e allora sì ecco perché tutta questa sicurezza qui ecco perché questo 5 di spade questa caparbietà questa voglia di raggiungere l'obiettivo a tutti i costi state attenti ragazzi perché questa voglia di raggiungere l'obiettivo a tutti i costi diventa narcisistica se noi esasperiamo l'energia quindi ecco potrebbe ripeto qui potreste esserci voi vergini o il vostro partner o un'altra persona con cui state flirtando in qualche modo chiunque sia da questo lato rischia atteggiamenti narcisistici e vi spiego perché breve digressione per i miei studenti il 5 di spade è già una carta molto forte è esasperante anche a livello energetico il 6 di bastoni idem mettendole insieme stiamo esagerando ed esasperando un'energia un una tendenza caratteriale o un desiderio quando tutto viene esasperato in queste in questo caso le due carte sono estremamente tese estremamente tirate potenti potrei dire a livello energetico come spiego nel primo livello mi sembra quindi state attenti a non esagerare l'unica cosa che vi salva qui in tutta questa con tutta questa testa dura l'unica cosa che vi salva qui è la carta della temperanza che vi dà pazienza e che vi dà quel tocco di calma e di tranquillità che vi permette di affrontare in modo equilibrato questa energia ora per chi è sì per chi è single uno dei due sa quello che vuole abbiamo detto ed è pronto anche ad aspettare e si accontenterebbe anche di poco nel qui ed ora perché sa che magari le cose importanti potrebbero accadere più avanti potrebbe volerci più tempo ma dall'altro lato invece c'è chi non sembra volerne sapere nel qui ed ora sembra questa persona avere bisogno di sganciarsi bisogno di andar via allontanarsi o perlomeno di stare a distanza di sicurezza fino a quando non decide cosa fare questa persona non se la sente di affrontare la situazione non se la sente di affrontare l'altro non sa esattamente ancora cosa vuole sicuramente non la sta vivendo in modo leggero perché la sta vivendo come un peso come un qualcosa che ci vorrà tempo e ci vuole tempo per farsela passare ma non è il momento di confrontarsi non è il momento di parlare e in ogni caso questa persona sta seguendo proprio i suoi principi con la carta del papa sa che sta facendo la cosa giusta non ha dubbi su questo ultima interpretazione come vi dicevo questa persona vuole questa persona questa persona ragazzi questo vale solo per qualcuno di voi questa persona impegnata è sposata o se non è sposata quasi diciamo che è qualcosa di simile sta questa persona sta evitando questa perché questa sta esagerando sta spingendo troppo sta andando troppo oltre ed ecco che non c'è una rottura definitiva però questa persona si prende tempo e spazio e si allontana per un po' se ne sta un po' per i fatti suoi per chiarirsi le idee e per capire davvero qual è la cosa migliore da fare in questi casi non è una situazione che vede un termine entro febbraio ma piuttosto questa è una situazione che andrà avanti ed evolverà comunque in altro modo ma vediamo adesso per chi è single un attimino cerchiamo di capire per i single che si vediamo quale sarà l'incrocio fra i nostri single della vergine e i 12 semi dello zodiaco questa parte comunque anche se siete in coppia io vi consiglio di guardarla perché potrebbe darvi delle informazioni molto interessanti soprattutto se avete in mente più di una persona quindi ecco andiamo a dare una sbirciatina anche sugli altri su ciò che accade con gli altri quindi mescoliamo queste carte intanto ragazzi per chi di voi vuole diventare mio studente di tarologia o di magia d'amore telepsichia o di psicologia karmica ed energetica io vi invito a inviarci un messaggio whatsapp al 338 81 91 267 e senza nessun impegno risponderemo alle vostre domande sui corsi sulla rateizzazione o sulla possibile scontistica se vi iscrivete a più di un corso ma cominciamo e vediamo un po che cosa le nostre cartine ok è uscito un messaggio per qualcuno di voi ragazzi solo per qualcuno di voi voi saprete per chi di voi è questa persona vi sta ignorando e lo sta facendo di proposito commentatemi qui sotto se avete voglia di raccontare un po perché non è per tutti comunque iniziamo e vediamo un po per chi di voi vergine sta in qualche modo condividendo questa situazione con la riete via libera un'unione favorita dalle stelle wow bravi con il toro no il toro è stanco del tiro e molla no non ne vuole sapere più nulla o comunque per il momento no il gemelli è molto interessato a voi con il cancro ci sono problemi di distanza fisica o emotiva il leone vorrebbe lottare per questo beh vergine con vergine beh vergine con vergine le carte qua dicono che potete fidarvi quindi potete tranquillamente mettere di lato le vostre paure la bilancia fra circa una settimana sarà tutto più chiaro vi prego di commentarmi in che modo lo scorpione con lo scorpione sta per accadere qualcosa che vi aprirà gli occhi e vi chiarirà le idee sagittario con il sagittario solamente un flirt con il capricorno c'è reciprocità bene bellissimo e l'acquario con l'acquario c'è un sentimento però questa persona preferisce mantenersi distaccata e il pesci nonostante abbia un'opinione negativa di tutto ciò che è accaduto con voi non riesce a lasciare andare e adesso prendiamo l'ultima carta e vediamo un po che cose invece gli angeli hanno da dirci in tutto questo vero amore ragazzi questa è la carta che dice che questo è l'amore della vostra vita non prendetela alla lettera vi prego questa è una lettura di tarocchi quindi non significa che tutti voi vi sposerete con questa persona o che sarete per sempre innamorati con questa persona io una volta ricordo di una cartomante online messicana che sono stata tentata di denunciarla per le cose che ha detto su un video youtube veramente proprio da mettersi le mani nei capelli e da dire la professionalità di certa gente dov'è dov'è vi prego blocca chiudetele il canale no vabbè scherzo diciamo che questa persona ha avuto il coraggio di dire in una lettura generica alla vergine mentre frequentava perché mi ricordo benissimo quella lettura mentre la vergine stava frequentando una persona già impegnata quella cartomante disse ragazzi questa è la vostra ultima occasione in amore se non prendete questa non ci sarà più nessuno nella vostra vita e io ero lì allibita che guardavo questa cartomante che diceva alle vergini mi raccomando lasciatevi andare con questo sposato perché l'ultima occasione che avete nella vita per essere felici cioè oh ma sorvoliamo scusate una digressione perché ogni tanto mi viene fuori ogni tanto mi vengono fuori queste cose però questa carta cosa significa non significa che questo è l'unico vostro grande vero amore che sarà con voi per sempre questa carta significa che adesso nel qui ed ora c'è amore fra voi significa che questa persona era previsto che sarebbe stata con voi in questo momento della vita ed era previsto che ci sarebbe stato amore quindi prendete quello che c'è in questo momento senza proiettarvi troppo sul futuro sul forever happy ending non c'è l'happy ending nelle letture di tarocchi generiche e chi ve lo mette vi prego cambiate canale qui stiamo parlando di ciò che stiamo vivendo adesso e adesso era tutto programmato era un amore previsto era una persona che doveva far parte della nostra vita e che probabilmente farà parte ancora della nostra vita ma non sappiamo per quanto tutto ciò che possiamo sapere però da questa carta è che possiamo fidarci dei sentimenti possiamo aprirci a questi sentimenti non abbiamo bisogno di averne paura qualunque cosa stia accadendo e qualunque sia il modo in cui la stiamo vivendo sappiamo in ogni caso che c'è reciprocità da parte di entrambi e questa è una cosa che ci permette appunto di vivere tutto con un po più di serenità e di complicità anche potremmo dire per il resto ragazzi inviate un whatsapp andate sul sito inviate un email e ci vediamo alla prossima